Un cordiale saluto e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di video 33 in apertura. Lo abbiamo sentito al termine di un inseguimento notturno per le strade di oltre Isarco. La polizia ha arrestato una ragazza a bordo di un furgoncino. I due complici riescono a fuggire con il bottino di 8 mila euro rubati all'affrilo di via Maso della Pieve. Potrebbe trattarsi, dicono, della famigerata banda dello slot machine. In seguimento, nella notte a Bolzano, tra alcune pattuglie della squadra volante e un furgoncino minivan con a bordo gli autori della rapina al supermercato Frilo in via Maso della Pieve. A dare l'allarme, un vicino che, uditi alcuni forti colpi metallici provenire dal parcheggio adiacente al supermercato, ha notato tre individui con il volto coperto allontanarsi a bordo del furgone. La fuga dei malviventi, che hanno scassinato la cassaforte portando via circa 8 mila euro, si è fermata contro il balcone a pieno terra di un condominio di via Claudia Augusta dove il minivan è andato a schiantarsi dopo aver centrato un'auto in sosta. Due dei rapinatori sono riusciti a fuggire con la refurtiva, mentre gli agenti sono riusciti a bloccare la terza occupante del furgoncino, una bolzanina di 21 anni che è stata arrestata e ora si trova rinchiusa nel carcere femminile di Rovereto. All'interno del mezzo sono stati trovati attrezzi da scasso. Importanti elementi sono in possesso degli inquirenti, coordinati dal capo della squadra volante Giuseppe Tricarico, per l'individuazione dei malviventi, che potrebbero essere la famosa banda dei videopoker. Il furgoncino utilizzato per la rapina alla frilo corrisponde infatti al mezzo che alcuni testimoni avrebbero visto nei paraggi dei bar Bolzanini presi di mira nelle ultime settimane dalla banda delle slot machine.